Oggi presso il Ministero del Lavoro si è svolto un incontro con Acciaierie d'Italia anche alla presenza del Mimit e della Regione Puglia per discutere della proroga degli ammortizzatori sociali per il sito di Taranto appunto nella ex Silva. Il sindacato si è dimostrato contrario a poter raggiungere un'intesa proprio perché abbiamo verificato che manca l'ingrediente principale. L'ingrediente principale in un accordo sindacale è l'affidabilità tra le parti e nonostante l'accordo del marzo scorso in cui per fortuna almeno abbiamo potuto far maturare la tredicesima a quei lavoratori che hanno un salario falcidiato da anni e di cui rimaniamo comunque orgogliosi come risultato ci siamo resi conto che in tutti i percorsi di gestione dell'amortizzatore stesso l'azienda si è dimostrata assolutamente inaffidabile. Esempio tra tutti la ripartenza di Afodue che invece che portare una diminuzione della cassa integrezione ne ha portato appunto un aumento dei numeri. È chiaro che al di là di chi firma gli accordi c'è una volontà aziendale di non rispettarli per far sempre forza su un braccio di ferro con il governo. Ecco a questo punto il sindacato quando c'era da prendere la sua di responsabilità per tutelare i lavoratori l'ha fatto. Crediamo che sia il momento anche per le istituzioni regionali e per il governo di metter mano alla partita per poter capire come coprire i lavoratori e come proseguire. Il ministero deve darci assolutamente contezza di quando e come vorrà procedere con il cambio di governance oramai inadeguata alla gestione dello stabilimento e al suo ingresso al 60% in acceglieria d'Italia. È il momento in cui le parole di rilancio della siderurgia e del gruppo della ex Silva prendano forma e non rimangano più solamente parole e slogan dei vari ministeri. Noi aspettiamo fiduciosi sperando che già l'incontro previsto per il prossimo 19 possa essere un punto di svolta.